La rabbia è invece, ora con la mia carica ti faccio vedere, ti faccio vedere ma per me, invece il tilt è quando entro e cominci ad attaccarci a tutti quanti e me ne resti pure il compagno tuo, cioè chiunque, chiunque ti si avvicina lo falci via, non è una cosa da ganzi, quante volte ti hai sentito di oh falcio chiunque mi trova davanti, ma anche in ambito gaming eh, non ho paura di nessuno, distruggo chiunque, chiunque mi si avvicina. Non stavamo parlando di quello, stavamo parlando di gestione della rabbia, quindi è importante avere non prima del focus di dove indirizzare la rabbia, c'è la consapevolezza, come sento oggi arrabbiato o sono irato, non si dice irato, termine vecchissimo, quindi che sono oltre la rabbia, quasi al tilt. In base su quell'aspetto ragioni con te stesso e valuti, perché sapere già cosa provi ti permette anche...